La splendida cornice di Rivisondo li vede all'opera la seconda parte del ritiro precampionato del Barletta Calcio. Gli uomini di Mister Ciro Ginestra sono arrivati in terra d'Abruzzo sabato 19 iniziando nel pomeriggio. Gli allenamenti, i primi due giorni, sono stati seguiti da Amica 9 TV in diretta Facebook intervistando alcuni protagonisti di questo nuovo corso. Fra i tanti spicca Mauro Marconato, cetrocampista con un mancino di tutto rispetto visto già l'opera nel match contro l'Avellino, è stato suo infatti il primo gol stagionale seppur in una gara amichevole, segno di un Barletta che combatte come il Cavaliere che porta sul petto ma che parla anche un tantino argentino. Stiamo conoscendo piano piano, questa è la terza settimana che stiamo facendo il lavoro credo che è un gruppo molto umile che sta facendo una gran preparazione e siamo molto uniti perché vogliamo vincere. Sì, sì, io credo che questo serve per restare più uniti, serve per lavorare più tranquillo quindi lo stiamo facendo, siamo con molta ansia di iniziare e speriamo di fare lo meglio possibile. È stato un bel gol però sto tranquillo, quello solo serve per trovare un po' più di fiducia era solo un amichevole quindi speriamo di fare qualche altro gol di similare in campionato. Scopo del ritiro potrebbe anche essere quello di scremare un po' il gruppo squadra che stando alle presentazioni e ufficializzazioni conterebbe 29 elementi sotto la lente di ingrandimento soprattutto gli under, non è da escludere che qualcuno possa andare altrove a mettere minuti nelle gambe intanto dal ritiro ha parlato anche il direttore sportivo Gigi Pavarese che ha chiuso il caso della mina vagante con la decisa affermazione di essere abituato a vincere sempre. Pavarese come il vice allenatore di Maio e l'attaccante Santerusso ha sottolineato che lo scopo del ritiro di Rivi Sondoli si è coinciso con la volontà di cementare un gruppo nuovo ma che già risulta compatto per l'obiettivo finale. Arriva ad una piazza completamente diversa quindi secondo me questa è una motivazione extra questa tifoseria che c'è lo Arletta, giocare in casa, credo che dobbiamo prendere fiducia con questi abbiamo bisogno di tutti i tifosi, credo che è una motivazione extra per me.